La Brexit e altri fattori di incertezza come il referendum costituzionale contribuiscono alla volatilità del quadro economico, ma l'Emilia-Romagna può sorridere grazie soprattutto al principale punto di forza dell'economia regionale, l'export. È quanto emerge dall'indagine congiunturale relativa al primo trimestre 2016 sull'industria realizzato da Union Camera Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa San Paolo, che conferma il trend di moderata crescita di produzione, vendite e ordine in atto da un anno. Produzione e fatturato sono cresciuti in Emilia-Romagna dello 0,5% con differenze importanti tra settori. La moda è uno dei comparti che soffre di più, meno 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2015, leggero calo produttivo anche per l'alimentare, mentre crescono mobili, chimica e stampa editoria. Le esportazioni giocano un ruolo fondamentale. La nostra regione si conferma la terza in Italia per export, 13,5% del totale nazionale, con numeri stabili rispetto allo scorso anno. Le grandi imprese orientate all'estero sono cresciute di più rispetto alle piccole. Nota negativa l'occupazione nell'industria con una diminuzione del 2,9% rispetto al primo trimestre del 2015, pari a 15.000 addetti in meno. 533 imprese in questo lasso temporale hanno chiuso i battenti. È stata infine analizzata la situazione del credito, che ha visto una ripresa dei prestiti alle famiglie, specialmente per l'acquisto di abitazioni e un leggero calo dei finanziamenti alle imprese.